Innanzitutto bisogna premettere e ricordare che il decreto rilancio ha previsto l'esenzione dal primo pagamento della prima rata IMU per tutte le attività del comparto turistico ricettivo, quindi ci rientrano gli alberghi ma anche gli agriturismo, i villaggi turistici, gli ostelli della gioventù, vari rifugi, affittacamere, case e appartamenti per vacanza, bed and breakfast, residenze e campeggi. Ovviamente bisogna che il possessore sia anche proprietario dell'attività, il comune che cosa ha fatto? Ha previsto comunque il differimento già in una delibera consigliare pubblicata, il differimento del pagamento della prima rata IMU che era in scadenza il 16 giugno al 30 settembre. Ovviamente a tutte quelle attività che abbiano dimostrato, che possano dimostrare, anche qui facendo specifica domanda, una riduzione del proprio fatturato di oltre il 20% rispetto all'anno precedente. Credo se un'attività è stata chiusa o ha ridotto i propri flussi sia facile dimostrare purtroppo una cosa del genere. Il beneficio è esteso anche a tutte quelle persone fisiche che hanno perso, comunque ridotto notevolmente, la propria attività lavorativa. Per l'IMU, dicevo, l'amministrazione sta preparando il nuovo regolamento e anche le nuove alifote per le quali non ci saranno aumenti. Questo si annuncia fin da ora rispetto a quella che era la somma algebrica della vecchia IMU e Tasi. Grazie. 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 Grazie.